buongiorno ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi andremo a pescare ai laghi montemerla si trovano in provincia di alessandria vicino al comune di isola di sant'antonio è stato preso in gestione dal nostro amico fabrizio del super lago dei trottosauri e quindi non vediamo l'ora di vedere questi laghi e di fare qualche bella cattura ciao a tutti a ed eccoci arrivati al lago montemerla una nostra vecchia conoscenza non vediamo l'ora di scoprire questo bellissimo nuovo posto inizieremo pescando a spinning inizieremo Sì, sì, sì. Grazie a tutti. È come il pellet, guarda, doppia cattura, grandi. Grazie a tutti. 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 Numero uno. No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. Adesso vediamo un po'. Incredibilmente mi ha attaccata una. Grazie a tutti. 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 E' arrivata finalmente anche una bella big con il Sofia Bianco. Ciao ragazzi. Anche questa mattinata di pesca ai laghi Montemerla si è conclusa. Ci siamo divertiti e siamo riusciti a prendere anche una bella big nel finale. E ora iscrivetevi al canale e seguiteci nella prossima avventura. Ciao a tutti.